Ben trovati, oggi mi funge vaghezza di parlare di un qualcosa che va un po' fuori binario rispetto al percorso che sto compiendo su questo canale di studio e conoscenza delle armi bianche rinascimentali. Diciamo che i video che ho fatto sulle armi e che continuerò a fare, magari se piacciono, nascono dall'esigenza di dare una diffusione a quegli oggetti, una conoscenza di quegli oggetti di cui io parlo con facilità all'interno dei libri, dei romanzi. Però già siamo andati un po' sullo specifico, un po' sul tecnico e a molti potrebbe pungere altrettanta vaghezza di studiarli in prima persona, magari di avere un'esperienza nella pratica del maneggio di queste armi a livello sportivo, a livello marziale, a livello amatoriale o anche agonistico. E quindi mi sono proposto con questo video qui di parlare una decina di minuti, no saranno un po' di più, di come eventualmente poter scegliere la propria esperienza in questo campo nella maniera più appropriata possibile ciascuno a se stesso. Premetto che io ovviamente sono di parte, per cui alla fine punterò tutto su un certo metodo, su una certa tipologia, ma cercherò di essere il più possibile onesto dal punto di vista intellettuale, nello spiegarvi quali possono essere i pro e i contro di qualunque approccio. Esiste un acronimo, HEMA, Historical European Martial Arts, che è un acronimo inglese perché l'inglese è la lingua di interscambio internazionale, che vuol dire appunto arti marziali storiche europee, dove storico vuol dire non contemporaneo, vuol dire antico. È un acronimo che raccoglie in sé tutta una serie di esperienze diverse, che vanno dallo studio dell'oplologia greca fino alla sciabola da terreno ottocentesca, passando per di tutto e di più. Chiaramente in Europa ogni nazione ha le proprie tradizioni, le proprie eccellenze e quindi tira un po' di più l'acqua al proprio mulino riguardo al tipo di scherma che si vuole andare a studiare e diffondere. In Italia abbiamo tantissime realtà e tutte queste realtà sono aperte all'istrizione da parte di chiunque voglia incominciare a praticare. Si parla di studio dell'oplologia antica, si parla di studio della schema medievale, si parla di studio della schema rinascimentale, si parla anche di studio e pratica di schema moderna, dove moderno è inteso dal 700 fino a prima della schema sportiva e poi c'è la schema sportiva che non rientra nel lema. È un'altra cosa. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di persone che vanno a studiare la modalità di maneggio delle armi, delle modalità di ingaggio che esistevano all'epoca delle armi che studiano per le necessità di maneggio, studiano dalle fonti il più possibile, studiano le modalità appunto di allenamento, si allenano, praticano e trasportano infine l'esperienza a livello materiale anche agonistico. Quindi ci sono anche delle competizioni. piacerebbe a tutti, no, piacerebbe a tanti, vestire effettivamente i panni del cavaliere medievale? Piacerebbe a tanti. Piacerebbe a tanti avere per le mani una pada vera e non una spada da schema sportiva e fare le cose che facevano. Sto ancora nel vago. Sì, piacerebbe a tanti e se mi state guardando forse piacerebbe anche a voi, se già non lo fate. Se già lo fate, mi state seguendo perché mi volete bene, perché mi conoscete, lo apprezzo tantissimo. Continuate a seguirmi. Come si fa? Come si fa a farlo? Si entra in un'associazione, si entra in una scuola. Lo volete fare per conto vostro? Sì, potete farlo anche per conto vostro. Però magari bisognerebbe che aveste un metodo per farlo. E di sicuro da soli da soli non si fa, bisogna essere almeno in due. Come le cose belle riescono sempre se siamo in due o più. E da soli si arriva fino a un certo punto, specialmente nel mondo degli sport da combattimento o delle arti marziali. Il primo grosso scoglio di, diciamo, selezione dell'esperienza è da dove colui che mi deve insegnare le cose, colui che mi deve istruire, prende il suo sapere. In Europa non esiste una tradizione continua di scherma antica. Non esiste. Se qualcuno vi dice che lui discende in linea diretta dai maestri esoterici che hanno il segreto dei Templari tramandato di bocca in bocca da maestro a maestro, sta parlando di altre cose che non hanno a che fare con la scherma. Probabilmente sta parlando di esoterismo oppure sta parlando di cose che si fanno in un'altra stanza, ma non sta parlando di scherma. Purtroppo la tradizione di insegnamento della scherma antica in Italia e in Europa è stata interrotta per questioni pratiche. Non serviva più a nessuno. In guerra non si usavano più le armi bianche come si usavano prima. Il duello non era più praticato come veniva praticato fino al Settecento, se vogliamo, ma già nel Settecento parliamone. E quindi la scuola di scherma marziale non ha custodito i suoi segreti mettiamo quattrocenteschi, mettiamo cinquecenteschi. ciò che è rimasto è diventato schema sportiva che ha tutta altra aspirazione e tutti altri scopi. La schema sportiva è uno sport, non usa armi, usa strumenti che richiamano nel nome e nella forma delle armi, ma che non hanno niente a che vedere con delle armi. nemmeno per quanto riguarda le proporzioni e il peso. Per cui quando parliamo di schema sportiva parliamo di una cosa che non ha a che vedere con le arti marziali e non ha a che vedere con la consapevolezza del maneggio delle armi antiche, medievali o rinascimentali. Non essendoci una tradizione, occorre che si prendano in mano le fonti e si studino le fonti. Le fonti esistono, le fonti sono trattati, manoscritti o a stampa, ce ne sono tanti, alcuni validi, alcuni meno validi, alcuni ridicolmente ingenui, alcuni astrusi e ci vuole tanto tempo e tanta conoscenza, preparazione o un bel gruppo di lavoro per tirarne fuori qualcosa. Alcune scuole insegnano quello che insegnano basandosi su pubblicazioni contemporanee, che è un bellissimo metodo, che funziona fino al punto in cui colui che ha composto la pubblicazione l'ha fatto bene, ma che non è esattamente andare alla fonte. diciamo che è un ottimo compromesso economico. Lavoro su testi che altri hanno scritto, manuali che altri hanno scritto, mi fido che loro siano stati bravi, che loro siano stati efficienti nella ricerca e quindi mi salto tutto il grande passo, il grande lavoro di ricerca d'archivio, trascrizione, versione, analisi, prova e interpretazione. Ci sono altre realtà che invece si incaponiscono a studiare soltanto dalla trattatistica originale, o meglio, che in seno alla propria associazione, alla propria scuola, fanno questo e da lì tirano fuori quello che possono poi insegnare in parole più comprensibili in palestra. Questo secondo me è un metodo estremamente virtuoso che ha una serie di vantaggi e degli svantaggi. Lo svantaggio è che c'è tanto lavoro da fare, ma tanto. Quindi ogni nuova antica nozione, cioè ogni scritto ritrovato che prima non conoscevamo, ha bisogno di mesi se non anni di lavoro prima di poter essere messo alla prova in sala, in palestra. Era uno svantaggio. In quest'epoca, specialmente dove tutto si muove così velocemente, dover aspettare i mesi per capire come funziona la tecnica di un maestro può non piacere. il vantaggio è innanzitutto che ci sono filtri tra la fonte e l'analisi, o meglio, il filtro siamo noi stessi e quindi sappiamo come abbiamo lavorato. Non possiamo dover dubitare del lavoro fatto male da qualcun altro, possiamo dubitare di averlo fatto male noi stessi. L'altro vantaggio è che, sapendo come abbiamo lavorato finora, siamo aperti, intellettualmente, onestamente, a rivedere quello che abbiamo capito finora. Magari abbiamo capito male, magari qualcosa non era così lampante per cui l'abbiamo misinterpretato, arriva un'idea nuova e siamo in grado di adattarci e dire, vabbè, non avevo capito, però così funziona meglio. Inoltre, avendo sotto mano le fonti e avendo sotto mano il percorso dalla fonte alla restituzione in palestra, ogni allievo, ogni partecipante è in grado a sua volta di sincerarsi di questo percorso e a sua volta di contribuire, non solo toccando con mano, leggendo con gli occhi e quindi rendendosi conto che ciò che ha sotto mano, sott'occhio è onesto, si può rendere conto di quali siano stati i passaggi, di quali sono i passaggi poi per imparare a farlo su qualcos'altro, ma a sua volta può avere delle idee cresche che modificheranno l'iter di interpretazione di quel brano e quindi è una grossa potenza. Chi vi negasse l'accesso alle fonti diffidate, a diffidate forte, perché le fonti sono fatte per essere lette da tutti. Alcune sono astruse ai bisogno magari di un uomo d'esperienza che dia spalla per indicare, a ditare, facilitare magari anche soltanto la lettura o l'interpretazione di una lingua non cueva, altre vanno prese un po' con le molle perché hanno bisogno di tutta una serie di presupposti, di inquadramenti storici, il tipo di arma, il tipo di contesto, il tipo di scontro al quale è dedicato quel passaggio specifico e quindi di nuovo c'è bisogno di un tecnico, c'è bisogno di un accademico che aiuti. Però generalmente è importante che chiunque si accosti allo studio di questa arte, perché è un'arte, abbia accesso fino all'osso della fonte. Se viene avvolto questo da un segreto insondabile, diffidate perché qui si manca un po' forse di onestà. Lo dico senza problemi, eh? Altra cosa importante, altro aspetto importantissimo, ci sono varie modalità di fare tema e ci sono due macrogruppi di cui... Allora, due macrogruppi. Il primo macrogruppo è persone in armatura con spade d'acciaio. L'altro macrogruppo è persone con protezioni tipo quella laggiù, non quella là ma quella là, quindi protezioni moderne, maschere da scherma e strumenti in mano. Primo macrogruppo, si parla di portatori sani d'acciaio, detti boiler. Si divertono tantissimo, loro si divertono tantissimo. Fanno una cosa agonistica, fanno un'attività internazionale, particolarmente praticata nell'est Europa, dove le norme per la salute personale sono un po' più blande. Tipo, se ti fai male male male, tira via. Fanno qualcosa di non particolarmente tecnico, molto fisico, non particolarmente sicuro, non particolarmente legale. O meglio, è legale finché non si fa male a nessuno. Nel momento in cui si fa male qualcuno, è un po' brutta la faccenda. Ora non sto a entrare nello specifico, ma sono convinto che prende sia sprangate con delle spranghe d'acciaio del peso di un chilo e mezzo, non sia esattamente nelle intenzioni del legislatore in Italia. Fa un po' brutto. Vi posso dire che dal punto di vista del costume è una figata pazzesca, sono belli, diciamo. Insomma, l'armatura ha il suo fascino. Dal punto di vista storico c'è poco. Dal punto di vista della tecnica c'è pochissimo. Dal punto di vista della tecnica marziale non c'è niente. Proprio perché questo tipo di competizione non vuole essere pericolosa o letale per chi la pratica, nonostante il rischio di prendere delle concussioni, di rompersi qualcosa, insomma, il rischio. Però il rischio fa dirile, no? Ecco. Ma se dovessero combattere con tecniche marziali disegnate per il combattimento in armatura medievale, non farebbero quello che fanno, ma ci scapperebbe il morto. Perché il tipo di tecnica necessario a neutralizzare un avversario in corazza, in armatura, è qualcosa di completamente diverso da quello che è ammesso in quelle competizioni, perché è qualcosa di estremamente pericoloso. Si parla di lotta, atterramenti violenti, si parla di punte di spada portate alle giunture o portate dove l'armatura si scopre o sa sottiglia, e quindi alla meno si parla di spalle rotte o gravi traumi da caduta, alla peggio si parla di spade che vengono infilate sotto l'elmo, all'inguine, sotto le ascelle e spinte forte forte. Ecco. Quindi no. Diciamo che quello è un mondo ludico, ludico sportivo, ma non è sport, non in Italia, non è sicuro e non è tecnico. Ora qui mi potrebbe arrivare un'ondata di merda da parte di quel pubblico, mi dispiace, ma è così, è quello che penso, è quello che ho visto in più di 15 anni sul campo. Allora veniamo all'altra metà del cielo. L'altra metà del cielo sono persone che si mettono attrezzature moderne, maschere da schermo omologate, giubboni imbottiti e rinforzati, pantaloni imbottiti e rinforzati, guanti appositamente studiati per salvare il più possibile le mani dai colpi e praticano lo studio e l'attività sportiva in ambienti non addobbati storicamente, non addobbati in maniera medievale, ma in palestre. E qui di nuovo abbiamo delle suddivisioni. Le suddivisioni forti forti sono chi tira con l'acciaio e chi tira con roba che non è d'acciaio. Veniamo al dunque. È bellissimo tirare con l'acciaio perché è figo l'acciaio. La spider era d'acciaio, sono, erano d'acciaio, perché dovrei tirare con qualcosa di diverso dall'acciaio. Non solo l'acciaio ha un fatto, diciamo, ha un comportamento quando cozza con l'acciaio, che altri materiali non hanno, o meglio, altri materiali costituiscono un compromesso diverso perché comunque non si possono comportare chiaramente come acciaio su acciaio, ma si comportano magari come legno su legno, o plastica, o nylon, insomma. Capite che è diverso. Però, e qui, come capite, sto andando un po' a esclusione, no? Tirare con l'acciaio significa scegliere un altro compromesso. Innanzitutto, se si pratica la scherma medievale, o rinascimentale, o moderna, con dei simulacri d'arma, quindi strumenti non affilati e non acuminati, di acciaio, che abbiano lo stesso peso, la stessa massa delle armi che rappresentano, ci stiamo fondamentalmente prendendo a sprangate su delle protezioni. Per cui, di nuovo, o indossiamo delle protezioni veramente massive che ci ostacolerebbero molto nei movimenti per avere sicurezza. Ma non vi sto parlando di un giubbone, non vi sto parlando di una giacca in kevlar, vi sto parlando di... di una corazza d'acciaio temprato rigida. Vi sto parlando di un sistema di protezione tale che veramente non riesco a muovermi. Specialmente per quanto riguarda la testa. perché? Perché una lama d'acciaio, una spada d'acciaio, e non voglio limitarmi alle spade, ma parliamo di spade, del peso idoneo a rappresentare il suo corrispondente, la sua se stessa originale antica, non trova un ostacolo sicuro di fronte alle protezioni che possiamo usare in palestra, in sala, di fronte a ciò che c'è adesso disponibile sul mercato. Non c'è sicurezza da questo punto di vista. Perché la massa di quell'oggetto, anche se non è appuntito, anche se non è affilato, è troppo grossa per garantirmi la sicurezza, cioè per garantirmi che domattina vada a lavorare con le dita integre, con la faccia integra, con le costole tutte a posto. Ammesso e non concesso che non venga trafitto. Perché comunque, fidatevi, è roba. I compromessi per lavorare con l'acciaio in sicurezza ci sono, e sono fondamentalmente avere lame più leggere e lame più flessibili. La lama flessibile è poi il compromesso che va verso la schema sportiva, che è più flessibile e molto più leggera. Rappresenta una buona resa dal punto di vista della sicurezza per il lavoro di punta. ha comunque un margine di rischio nel momento in cui la lama si va a rompere. E prima o poi la lama si va a rompere, perché sono leggere e estremamente flessibili. Diciamo, dopo migliaia di flessioni, ma quando si rompe è un piccolo problema. Un piccolo problema che senza le protezioni adeguate può diventare un grosso rischio. Il problema è che abbiamo a quel punto degli strumenti più maneggevoli che non ci permettono di apprezzare, valutare e analizzare le tecniche marziali nate per strumenti un po' più pesanti. E quell'un po', fosse anche solo un etto, ci cambia la prospettiva, ci cambia la vita. Per cui, sì, acciaio su acciaio funziona, il legamento di spada funziona benissimo, lo possiamo comprendere e capire. La flessibilità già ci tradisce un po', perché la spada è meno rigida di quelle antiche e quindi sbanana, scusate il termine, di più, specie ai contrasti e specie per altri giochetti che si possano fare, il peso ci tradisce molto l'analisi della scherma antica. Quindi esistono strumenti diversi che tradiscono l'idea del contatto acciaio su acciaio, quindi non ci fanno rendere conto di come poteva funzionare effettivamente il contatto acciaio su acciaio, ma ci consentono di lavorare con degli strumenti sicuri, di fronte ai quali le nostre protezioni sono adeguate per non riportare ferite, non riportare lesioni e quindi non rimanerci secchi e quindi la mattina dopo andare a lavorare con tutte le dita integre e senza occhi neri, che vuol dire, che conservano il peso delle armi che vogliono rappresentare e quindi ci consentono di valutare e analizzare le tecniche anche e soprattutto in velocità e nei confronti della massa dei manufatti. Sì, la velocità è importante perché c'è un altro metodo che consente di lavorare con l'acciaio con protezioni non adeguate ed è quello di fare piano. Facciamo piano perché abbiamo delle spade d'acciaio e possiamo farci male. Allora si tira piano o si tira fuori bersaglio. Allora, capite che tirare piano o tirare fuori bersaglio non ha niente a che vedere con un'arte marziale e non ha niente a che vedere con lo studiare e rendersi conto di come potesse funzionare l'arte marziale. È un compromesso ancora più brutto che sposta la scherma, sposta l'esperienza EMA verso il teatro. Sì, io posso tirare piano, posso tirare fuori misura. Se voglio fare una rappresentazione teatrale, allora posso fare quello che voglio perché devo lavorare in sicurezza e allora lo posso fare. No, però lo posso voler fare senza le protezioni. Tanto non tiro a bersaglio, tanto tiro piano. O tiro veloce ma tiro fuori bersaglio. Se voglio tirare con tutta la velocità, la forza e l'intenzione necessaria per studiare la scherma antica devo avere delle protezioni adeguate e degli strumenti di fronte ai quali le protezioni siano adeguate del peso e della massa corrispondenti ai manufatti a cui le tecniche fanno riferimento. E allora come si fa? In realtà l'ho già detto. E allora si lavora con il legno. Si lavora con il legno come lavoravano i maestri del Rinascimento. I maestri del Rinascimento, nei loro trattati, ci dicono che si impara a fare la scherma con il bastone. Non è che ce lo siamo inventato ieri, eh? 500 anni fa dicevano prendete i bastoni e insegnate i vostri allievi con il bastone e fate giocare i vostri allievi col bastone, dove giocare per loro voleva dire combattere in maniera sportiva. cioè non per davvero. Con il bastone, con i guantoni di cuoio, con le maschere da scherma che ce l'avevano anche nel 500 e nel 400 erano un po' più dei gabbioni da mettere sulla testa ma insomma l'idea era quella. E quindi il legno. Ora il legno ha una serie di problemi secondari tipo provate con un manico di scopa lo date 10 volte su un gradino e poi esplode e scheggia. Questo è Rattan, vedete è flessibile, ci si fa le poltrine di giunco con questo. è usato nelle arti marzelle orientali tra l'altro e non scheggia. Ha molta più resistenza del legno e consente di fare cose, specialmente se lo usiamo in concomitanza con degli accessori tipo delle impugnature fatte apposta per far finta che sia una spada con i ponticelli, gli archetti, però la lama è di Rattan, non è di acciaio. Il peso, a seconda poi dello spessore, me lo posso giustare, è corrispondente a una analoga lunghezza di acciaio tirato a lama e quindi ho un buono strumento. Difetto del Rattan? Rimbalza tanto più dell'acciaio. Quando picchio questo su altro Rattan rimbalza tanto. Altro difetto del Rattan, quando tira di punta, si è flessibile ma fino a un certo punto. Diciamo che un colpo di punta in petto di questo ha un bel potere d'arresto. Da fastidio, ci vuole il corpetto che assorba il colpo e... Ma ha morto nessuno eh? Però da un po' fastidio. Oppure... Eh, questa è più figa. Oppure il nylon. Il nylon è più moderno, è più bello, è fatto apposta, è molto più flessibile. Quindi la punta di questo oggettino qui di nylon, di questo simulacro, dà meno fastidio rispetto al Rattan. Comunque il taglio è buono. Lo spessore, lo vedete, è molto ampio. Per cui a parità di massa di lama la superficie di impatto è larga, le protezioni la reggono bene. La punta è larga, è molto flessibile, non sfonda le protezioni. Quindi questo è uno strumento di grande sicurezza. Le impugnature sono fatte apposta per richiamare, ricostruire la forma delle spade. Questa è una spada da lato, ma ce ne sono di vario tipo. Questi archetti sono particolarmente grossi perché si maneggiano con dei grossi guanti di protezione, per cui non è soltanto il dito che ci sta dentro, ma è tutto il volume del guanto. Ecco, questo è uno strumento che se lo trovate nella sala in cui vi affacciate per imparare la scherma, è un buon sintomo di ottima coscienza e ottima pratica a livello proprio marziale. Perché con questi oggetti, ma anche con il Rattan, si impara a fare la scherma con uno strumento del peso giusto, delle dimensioni giuste e si può fare dell'agonismo con le protezioni corrette in totale sicurezza. Veramente bene. Certo, il difetto anche nell'ailon è che non ha lo stesso tatto dell'acciaio sull'acciaio, per cui ci rendiamo più difficilmente conto di come potesse funzionare effettivamente la presa di ferro, la battuta di ferro su ferro e alcune cose. Però quelli sono necessari compromessi per poter praticare il 98% dell'arte. Quindi io vi invito, adesso questo è stato, se vi viene voglia di selezionare la vostra esperienza in questo mondo, di darvi un'occhiata intorno. Ci sono tantissime associazioni. Io ovviamente sponsorizzo la Marozzo perché è presente in tutta Italia e non solo, in maniera capillare, in maniera interlacciata. trovate gli stessi corsi, più o meno, le persone sono diverse, ma i corsi sono gli stessi in tutta Italia. I corsi sono certificati e gli istruttori sono soggetti ad un rigoroso percorso di crescita, per cui non sono improvvisati. La Marozzo pratica con protezioni moderne, maschere omologate, guanti di protezione e quant'altro e con il nylon. Se trovate delle sale della Marozzo che praticano con il Rattan, entrateci di corsa perché loro sono quelli duri e puri che ancora usano, specialmente nei primi mesi di corso, il Rattan perché è uno strumento ancora più efficace per l'apprendimento delle basi, dei rudimenti e lo sviluppo necessario del sistema muscolare necessario al maneggio degli strumenti, quindi di corsa. Però ci sono anche altre realtà in Italia che funzionano benissimo. Il mio parere è quello. Evitate roba in armatura, perché non è esattamente un mondo sportivo, non è esattamente un mondo di sicurezza, per quanto sia bello. Se volete fare rievocazione, fate rievocazione, non fatevi prendere a sprangate mentre siete in armatura. Quindi protezioni, quindi aspetto sportivo, prima ancora che aspetto storico. deve essere una sala che abbia onestà intellettuale, che studia i trattati più alla fonte possibile o le pubblicazioni di persone estremamente preparate, tipo l'istruttore Lamarozzo. Alla fine si casca lì. E che non faccia mistero delle fonti nei confronti degli allievi. Le fonti devono essere accessibili a tutti, altrimenti vuol dire che c'è qualcosa di marcio in Danimarca, insomma. Preferite veramente, questo ve lo dico col cuore, chiunque tiri con il nylon o con il rattan, a chi voglia sponsorizzare a tutti i costi l'acciaio. Perché l'acciaio ha una serie di problemi che allontanano un po' da quella che è la vera analisi accademica, la vera esperienza dello studio della schermo antica. E alla fine le persone devono essere valide. Quindi non so come ve la cavate voi, ma se ci state bene stateci. Poco da fare. Le cose sono queste. È un inserto un po' diverso dal solito. Le nostre attività continuano quest'estate. Comunque il Patreon è attivo. Trovate il link in descrizione. Questo canale continua settimanalmente a mandarvi qualche cosa, qualche intrattenimento, qualche interessantissimo video. Stiamo arrivando veramente a gonfie vele verso la sfida finale. Spada contro Katana, non perdetevela. E fra poco escono altri iscritti, quindi stay tuned. Ci vediamo la prossima volta sempre su questo canale. Alla prossima!